E' stata un'altra sera. Passarono oltre vent'anni da quella prima sera. Ero seduto sul letto, ho acceso una sigaretta e anche quella sera decisi di pensare a quello che era la mia vita e andai a guardarla, come mai l'avevo guardata. Ormai ero pratico, bastava avere il coraggio per iniziare e poi il resto sarebbe venuto da solo. Così altri dei hanno seguito la via dei precedenti e ciò che restava del mondo da me salvato si è sgretolato sotto l'analisi della realtà. La solitudine è la vera realtà. Più si va a fondo e più la consapevolezza dell'unicità del nostro essere emerge. E nel riconoscere la nostra unicità ci separiamo dal tutto, per essere degli individui. Un nuovo esame è stato superato, l'esperienza fatta si trasforma in passato e noi possiamo continuare a vivere come se fosse una nuova materia da approfondire. E anche quella sera piansi, ma senza disperazione, perché ormai era certo che la vita sarebbe continuata anche su altri piani.